Le pagelle belle e fresche di Atalanta-Napoli Oh, questi qua non li ferma più nessuno, vanno come un treno, mamma mia, complimenti Meret, non è che abbia dovuto strafare quella parata su Oilond però gli vale un bel 7 Riesce a fare vincere, il suo Napoli fa una parata che può sembrare semplice però l'ha fatta Quindi è una parata semplice però essendo che ha salvato il risultato un bel 7 Di Lorenzo, parte bene però poi nel secondo tempo un paio di errorini da non di Lorenzo Diciamo che i cross li fa sempre bene, in difesa bene o male ci riesce sempre a ritornare quindi gli posso mettere 6 Kim, la più brutta prestazione da quando è arrivato a Napoli Nel secondo tempo si è fatto un po' savorastata a Lukman E ha rischiato pure un po' a preso il cartellino giallo Non è da insufficienza grave ma da 5,5 One Jesus, oggi One Jesus, 6,5 Velo reader della difesa Si fa trovare sempre bene al momento giusto Fa anche quel salvato di destra nel finale Sta sostituendo la perfezione a Arkmani, 6,5 L'altro terzino, Oliveira Non so se sapete ma se ne scatate i fotocolli da faccia Una roba clamorosa Non mi fa impazzitanto a me Oliveira, vi dico la verità 5 Eppure tanto, ogni volta che scende sotto Quando mi provava a mettere i crossi faceva sempre sbadati, sbagliati 5 Centrocampo, anche se non ha giocato bene Anche se oggi stava un po' scarico L'ho visto un po' spento Non è lo stesso giocatore di sempre Sbadato su dei passaggi Non riesce a difendere bene Poche occasioni di testa Forse il peggiore in campo oggi 4 Lobokta Allora, anche Lobokta non è che abbia fatto una partita tremenda Però perlomeno lui ci mette anche le azioni difensive Perso due o tre palloni clamorosi, eh Stava periscate Veramente deve fare una cazzata clamorosa due o tre volte Non però facendoti insieme nella sua partita un bel 6, dai Piotr Zielinski 6 e mezzo, a lui sì Nel secondo tempo viene sostituito Secondo me perché se la gioca male Sì, nel secondo tempo ha giocato male Nel primo tempo quel cross è clamoroso, è bellissimo Un cross, uno scambio, un cross perfetto Che cioè Comunque Zielinski è forte, ragazzi Tanto forte Lozano 4 e mezzo Commento Te la devi finire sta per terra Te la devi finire sta per terra Sta sempre a terra Sta sempre alla menta e basta, no? Te credo che poi Muregno Te dice che sta sempre a terra Osimene Se vogliamo trovare proprio la piaga Che causa il rigore Ma del resto ha fatto una partita perfetta 8 Meno però, dai su Elif Helmas Stai più Contribuisce Fai buoni cross Difende anche lui Zerbin E Gaidano SV Politano Dombele Simeone 6 Palletti 7 Preparate a...